Stefano Vacari, Assessore Provinciale dell'Ambiente e della Protezione Civile, nonché Presidente dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile. Questa settimana l'abbiamo pensato come un'occasione, un'opportunità per far vedere come questo territorio vuole percorrere assieme a chi vorrà accompagnarlo la strada della ricostruzione green, della ricostruzione sostenibile. Abbiamo messo insieme una serie di appuntamenti, di riflessione, di approfondimento tecnico, di incontro e di discussione anche con gli ordini professionali, con i politici e con le imprese per indagare anche buone pratiche già realizzate sul nostro territorio, in corso oppure realizzate nel nostro paese e in Europa perché è da questi esempi che ci possono trarre le indicazioni, gli stimoli per poterle realizzare ed adattare al nostro territorio. Una strada ed una sfida assolutamente alla nostra portata e che vorremmo vincere assieme anche a chi la vorrà condividere assieme a noi.